Ciao a tutti, bentorezze sul canale, benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi sono in compagnia di mio mio padre Fai ciao Ciao Poi davanti c'è mia sorella alla guida C'è mia mamma di là Stiamo andando all'outre di Serravalle Quindi cerco di portarvi con noi il più possibile Per vedere se riesco a trovare qualche chicca magari da qualche parte Ho sentito che c'erano delle cose interessanti da Saint Laurent Quindi sarà una tappa E poi andiamo anche a comprare dei giocattoli Per me Giusto Andiamo a comprare anche dei giocattoli Allora, siamo arrivati a Serravalle Siamo già entrati da Jimmy Choo e da Patrizia Pepe Jimmy Choo l'anno scorso aveva tutta una serie di scarpe super super scontate Infatti avevo trovato le mie scarpe Le sneakers quelle dorate Invece questo giro assolutamente niente Non ho trovato niente di interessante Adesso niente, andremo a fare un giro Io volevo assolutamente andare da Saint Laurent Quindi quella è una tappa che faremo assolutamente Allora, sono appena stata da Dolce Cabana Non sono riuscita a riprendere soltanto qualcosina Però mi sono innamorata di una gonnellina Che forse torno indietro a provare Perché mi piaceva un sacco Infatti adesso valuterò un attimino Fantasia, non so se avete presente quel vestigino di Emily in Paris Che è effettivamente di quella fantasia E praticamente è il rispettivo la gonna Praticamente E quindi niente Adesso valuterò un attimino se tornare Oppure no Dipende cosa trovo da Saint Laurent Perché la mia intenzione è quella di andare da Saint Laurent E niente, adesso invece stiamo andando a mangiare Perché mio nipote non c'ava più Finita l'autonomia Non potete capire Ho preso anche il gelato da Grom Ho preso crema di Grom E crema come una volta Vabbè, adoro Che verde Che dici? Io sono per il bordeaux A bordeaux forse Il bordeaux Il verde è un color un po' più nuovo Però a me non Non ho entusiasmo A sacchettino Ah, quello ha fatto a sacchetto Bellissima Bileome Un'altra Un'altra Grazie a tutti. Per il momento ho acquistato soltanto da Antica Sartoria e da Longchamp, mi serviva un borsone da viaggio e non ho trovato niente interessante da Saint Laurent, avevo una borsa che però io ho già prenotato, vabbè ho spoilerato brutalmente un mio acquisto comunque, vabbè insomma l'ho già prenotata e l'ho presa di seconda mano e quindi la pago meno che all'outlet quindi l'ho guardata, l'ho provata. Però non appunto non l'ho presa per semplice fatto che appunto l'ho già prenotata quindi l'intenzione è quella di acquistarla e adesso invece sto andando verso Prada, faccio sapere se trovo qualcosa di interessante, adesso voglio guardare un attimo la vetrina delle Silla. Questa a me piace. Armani e ho trovato queste cose che sono super super carine. Allora ho fatto un po' di danni, compreso uno che vi farò poi vedere, credo farò un video a parte perché ho comprato diverse cose, mia mamma che ha deciso di non venire da Fendi, noi adesso entriamo da Fendi. Allora ho abbandonato mia sorella e mia mamma e mio nipote per andare a fare un giro nell'altra parte di Serravalle che è la parte al di là del ponte diciamo, dove ci sono cose leggermente meno interessanti però volevo fare comunque un giro perché sto cercando dei regali e quindi niente me ne vado per i fatti miei adesso da sola e vediamo se riesco a trovare questi benedetti regali. Comunque io non so voi ma adoro venire in questo posto perché questa cosa di avere i negozi all'aperto mi piace veramente tantissimo. Siamo fermati a mangiare qua a Serravalle in questo porto che si chiama Obikà e ho preso i fiori di zucca in pastella e questi sono tagliolini al tartufo nero estivo. Allora non so ancora se concluderò il video qua oppure se farò l'all video all direttamente in questo video vi farò sapere. Adesso sbuccherà fuori una comparsa. Buongiorno! Saluta un po'. Ciao! Cosa abbiamo fatto oggi? Tanto shopping? Sì! Comprato anche il dinosauro? Anche due! Due dinosauri! Uno per lui e uno per il suo amico Giulio? Sì! Giusto? Uno per tutti e due. Uno per tutti e due e uno per tutti. Uno per tutti e due è giusto. E vabbè. Comunque dicevo che non so se farò l'all in questo video oppure se lo vedrete in un altro. Vedremo in base alla... Ma stai cercando di fare? Ah, facciamo vedere il dinosauro. Fai un po' vedere questo dinosauro. Fai un po' vedere bene. Dov'è? Wow! Andiamo? Comunque adesso andiamo perché siamo stanchissimi, quindi adesso andiamo verso casa. E niente. In base alla lunghezza di questo video deciderò se attaccare qua il video haul oppure se fare il video haul separato. Grazie a tutti.